Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete i link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. Inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha analizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno i spoiler. Detto questo direi di iniziare subito con il video di oggi in cui andrò a fare la recensione della miniserie televisiva del 2021 The Falcon and the Winter Soldier, disponibile su Disney+. Non mi aspettavo granché da questa serie, però devo ammettere che nel complesso mi è piaciuta, l'ho trovata piuttosto godibile, anche se non è chissà che, parliamoci chiaro. Però devo dire che mi ha intrattenuto parecchio, anche se ovviamente non stiamo parlando di chissà quale grande serie, dato che ha un limite, soprattutto sotto il punto di vista della scrittura, dato che ci sono delle tematiche potenzialmente interessanti che però non sempre vengono messe al centro dell'attenzione. Molto spesso vengono un po' trascurate e messe da parte per lasciare spazio ad altro che magari non è poi così interessante, oppure a parti action che comunque funzionano. Le varie parti di combattimento mi sono piaciute, in pieno stile Marvel. Però avrei preferito che la serie si concentrasse per tutto il tempo su determinati temi che, a mio parere, se fossero stati sviscerati in maniera decisamente migliore, avremmo ottenuto un risultato ancora più riuscito rispetto a quello che è stato. E so che magari non sarò stato molto chiaro, però il concetto che voglio esprimere è proprio il fatto che questa serie aveva un buon potenziale e che, a mio parere, non è stato sfruttato appieno. Ecco, posso riassumere in breve il mio pensiero in questo modo. Ed è un peccato perché alcuni spunti, come ve ne parlerò ovviamente nella parte spoiler, mi erano piaciuti, però non sempre vengono messi al centro dell'attenzione. Questo è un vero peccato. Poi per il resto che posso dirvi, ho apprezzato sicuramente le interpretazioni attoriali, le ho trovate di buon livello, soprattutto quella di Sebastian Stan, ma anche Anthony Mackie è stato piuttosto bravo. E anche tutti gli altri personaggi se la sono cavata piuttosto bene. Certo, non ci sono quelle grandissime interpretazioni attoriali che svettano e spiccano in particolar modo, ma di sicuro sono interpretazioni attoriali tutte più o meno di buon livello. Per il resto, la scrittura della storia, ma anche la scrittura dei personaggi, non sempre funziona alla perfezione proprio per il discorso che vi facevo poco fa, dato che le buone intenzioni non vengono, diciamo, mantenute quando si deve passare ai fatti. Ecco, mettiamola così. Ripeto, ve ne voglio parlare meglio nella parte spoiler perché, a mio parere, questa serie avrebbe potuto raggiungere dei livelli superiori se solo avesse aggiustato e sistemato il tiro in certi punti, in certi tratti, appunto, di tutto il racconto. Però, poco male, dato che non è una serie da buttare. Questo assolutamente no. Ho sentito anche parecchie critiche che posso anche capire, ma non mi vanno giù le critiche feroci su questa miniserie perché non stiamo parlando di una serie da bocciare sotto tutti i punti di vista. Certo, non sarà una serie che spicca particolarmente, ma non è nemmeno così orribile. Cioè, per passare tempo, ve la consiglio assolutamente, senza aspettarvi chissà che, ecco. Non createvi grandi aspettative perché potreste rimanere delusi. Ecco, questo ve lo posso dire con piena e assoluta certezza. Per il resto, come vi dicevo poco fa, le scene action le ho apprezzate, mi sono piaciute tutte le varie parti di combattimento, in pieno stile Marvel funzionano. E anche gli effetti speciali sono di ottimo livello, cioè l'impatto visivo si vede e si nota. Questo anche, devo dirlo. Ho apprezzato certi punti. Ci sono alcune scene che, a mio parere, meritano assolutamente di essere citate e menzionate. E ve ne parlerò meglio nella parte spoiler. Quindi, io vi consiglio questa serie se cercate un prodotto di buon intrattenimento senza aspettarvi chissà quale grandissimo capolavoro. Detto questo, per tutti questi motivi, ho deciso di dare a questa miniserie 3 stelle e mezzo su 5 perché, a mio parere, fa ciò che deve fare senza spiccare particolarmente ma senza nemmeno deludere in maniera così esagerata. Magari anche le mie aspettative non erano altissime, quindi mi sono mantenuto basso sotto questo punto di vista. Devo dire che questa mia scelta mi ha premiato dato che non ho affatto disprezzato questa serie, anzi, tutt'altro. C'è sicuramente di meglio in giro ma c'è anche di peggio, questo ve lo posso assicurare. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler e direi di iniziare con i spoiler. Fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler voglio parlarvi delle scene che mi hanno colpito di più e delle tematiche che ho trovato più interessanti. Faccio riferimento soprattutto agli archi narrativi dei due personaggi principali di questa miniserie ovvero Falcon e il Soldato d'Inverno perché da un lato abbiamo Falcon che dovrà fare i conti con l'eredità di Captain America dato che non si sente né pronto né degno e quindi consegnerà lo scudo mentre dall'altro lato abbiamo il Soldato d'Inverno che dovrà fare i conti con ciò che ha fatto in passato tutti gli incubi che lo tormentano e continuano a tormentarlo infatti il Soldato d'Inverno devo dirvi che è uno dei miei personaggi preferiti del Marvel Cinematic Universe proprio per come viene caratterizzato, per come viene interpretato e per la storia che appunto gli viene data e questa cosa l'ho apprezzata particolarmente sia all'interno dei vari film del Marvel Cinematic Universe sia all'interno di questa miniserie però il discorso che voglio farvi è un discorso generale che vale per tutti gli archi narrativi che ci sono stati all'interno di questa miniserie ovvero degli archi narrativi molto interessanti ma che a mio parere non sempre vengono sviluppati, approfonditi a dovere dato che molto spesso viene trascurato il tutto per lasciare spazio ad altro che magari non è interessante allo stesso modo e questa cosa mi è dispiaciuta perché non c'è un vero e proprio equilibrio fra le varie parti di questa miniserie ci sono parti più interessanti e poi ci sono parti decisamente meno interessanti e coinvolgenti e questa cosa mi dispiace non c'è un equilibrio ben preciso e il tutto ovviamente si trasforma in una riuscita non ottima della serie ma sicuramente buona per quanto mi riguarda almeno anche gli altri archi narrativi non li ho trovati diciamo poi così tanto interessanti come quelli dei due personaggi principali mi riferisco soprattutto alla fazione nemica che può essere considerata terrorista o rivoluzionaria dipende dal punto di vista ecco questo concetto di base è potenzialmente interessante ma non viene sbiscerato appieno e questa cosa mi dispiace soprattutto anche per quanto riguarda colei che è a capo di questa fazione che non è a mio parere un personaggio così interessante da essermi rimasto particolarmente impresso e questa cosa mi dispiace un bel po' per il resto ho apprezzato il ritorno di Zemo anche se non l'ho trovato così fondamentale e così presente come mi sarebbe piaciuto vederlo perché mi sa tanto di contentino più che di ritorno vero e proprio per diciamo mescolare un po' le carte in tavola ecco e questa cosa non mi è proprio andata giù perché è un personaggio che quando compare anche all'interno di questa miniserie riesce a coinvolgermi però non ha una presenza così tanto rilevante durante tutto il corso della miniserie per il resto anche Sharon Carter all'interno della serie non ha un ruolo così determinante e decisivo da farmela considerare come fondamentale all'interno della storia che c'è in questa miniserie ecco quindi è il problema principale della serie è un po' la gestione del tutto la scrittura sia della storia che dei vari archi narrativi dei personaggi in certi casi anche dei personaggi che non sempre vengono caratterizzati a dovere però se c'è un'altra cosa che ho trovato interessante oltre agli archi narrativi seppur non perfetti è sicuramente l'arco narrativo del nuovo Capitano America ovvero John Walker ecco quello è sicuramente uno degli aspetti migliori di questa miniserie peccato solo che c'erano alcune sfaccettature che a mio parere avrebbero meritato maggiore attenzione però nel complesso anche in questo caso il tutto funziona dato che appunto John Walker essendo il nuovo Capitano America dovrà vedersela con non pochi problemi e anche per come viene caratterizzato dato che è un soldato pluripremiato pluridecorato, il soldato perfetto per così dire non si troverà diciamo con un compito facile dato che appunto sarà il nuovo Capitano America ecco anche il suo arco narrativo mi è piaciuto molto in particolar modo quando si arriverà a un punto in cui vi parlerò delle scene che mi hanno colpito di più proprio a proposito delle scene devo dirvi che le varie scene action come ho detto nella parte uno spoiler funzionano mi sono piaciuti i vari combattimenti ci siamo anche proprio sotto il punto di vista degli effetti speciali in pieno stile Marvel il tutto risulta coinvolgente faccio riferimento soprattutto alla scena action iniziale tutto quel combattimento in volo mi è piaciuto tantissimo così come anche tutte le altre varie scene di questo genere mi sono piaciute in pieno stile Marvel incluso il finale in cui poi il tutto si risolverà per il meglio vedremo i vari personaggi che come si suol dire chi usa una porta si apre un portone quindi ogni personaggio dovrà diciamo fare i conti in futuro con qualcos'altro e che scopriremo più avanti di sicuro non adesso ecco e quindi passando alle scene che mi sono piaciute di più sicuramente tutto il quarto episodio che a mio parere è il migliore in assoluto di tutta la miniserie le altre puntate non si avvicinano neanche lontanamente a ciò che accade nella quarta puntata ed è lì che si osa è lì che si fa il passo successivo lo step superiore che permette in particolar modo a questa puntata di elevarsi rispetto alle altre non c'è il freno a mano tirato neanche un po' perché ci sono un sacco di scene action di combattimento che mi sono piaciute fino ad arrivare alla parte finale dove praticamente l'amico di John Walker morirà per mano di colei che sta a capo della fazione nemica e allora John Walker ucciderà proprio un complice di questa ragazza in maniera così violenta davvero una violenza che non mi sarei mai aspettato soprattutto mi ha colpito l'ultima inquadratura dove vediamo John Walker con lo scudo insanguinato inquadratura splendida scena meravigliosa e lì mi sono davvero venuti i brividi e la pelle d'oca devo ammetterlo e poi il tutto continua anche nella parte iniziale della quinta puntata dove c'è il combattimento in cui John Walker dovrà vedersela con Falcon e il soldato d'inverno e mi è piaciuto come è stato fatto il tutto quel combattimento mi ha coinvolto proprio dal punto di vista emotivo e con appunto anche la sconfitta di John Walker un combattimento splendido il migliore sicuramente dal punto di vista delle emozioni per quanto mi riguarda anche lì mi sono venuti i brividi e la pelle d'oca e queste sono sicuramente le scene migliori in assoluto di questa miniserie che per il resto come vi ho già detto funziona nel complesso ma diciamo che non posso elevarla a ottima serie posso dire che è una buona serie ma purtroppo non posso dire di più e questo mi dispiace perché con una maggiore attenzione soprattutto per quanto riguarda i dettagli anche proprio dal punto di vista della narrazione pur risultando scorrevole il tutto non sempre coinvolge appieno devo ammetterlo ci sono alcuni episodi in cui ci sono parti che a mio parere potevano essere tolte tranquillamente per lasciare spazio a maggior approfondimento degli archi narrativi dei vari personaggi ah e piccola nota a margine ho apprezzato il costume di falcon come nuovo captain america questo lo devo ammettere così come ho apprezzato quello di vanda alla fine di vanda vision anche in questo caso costume ampiamente promosso per quanto mi riguarda e appunto per quanto riguarda proprio il finale di questa miniserie come vi ho già detto prima il tutto si risolverà per il meglio con un combattimento che anche in questo caso mi è piaciuto per meglio dire tutta la parte finale per come è stata gestita l'ho apprezzata e quindi il tutto vedremo come continuerà con i prossimi prodotti del marvel cinematic universe vedremo la marvel come continuerà il tutto e sono molto curioso di scoprire tutto ciò quindi detto questo sono molto curioso di sapere voi che ne pensate di questa miniserie e fatemelo sapere perché mi interessa appunto sapere la vostra opinione quindi detto questo io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima ciao